Ora vi presentiamo il nostro Prosecco Blu Millesimato Treviso Dock. Millesimato significa che le gravi vengono dalla stessa città. Per questo motivo il Vintage Shear è indicato sul label del bottone. Le varietà di gravi sono 85% clara, quindi viene dalla area Valdobbiadene e 15% Pinot e Chardonnay viene dal Treviso, nella regione Veneto. Valdocca lo ha fatto nella versione extra dry. È un vantaggio Vintage Prosecco in un colore brillante blu. Ha un aromato frutti sui nodi di apple, acacia e flora di vestigia. È fresco e elegante, con un equilibrio perfetto tra l'amore e l'acidità. È ideale per raffreddare con i piatti di pasta o solo per raffreddare la paletta dopo o durante un aperitivo. È buono per piacere la città. Grazie a tutti! Grazie a tutti.